Salvini in sei anni, dalle politiche del 2013 all'europea del 2019, ha portato la Liga dal 4% al 34%. I sondaggi quest'estate, per quanto valgono i sondaggi, la danno ucciso al 38% l'8 di agosto, quando tutti stavano al mare tranquilli eccetera, apre la crisi. Perché? Le butto là tre ipotesi. Una, perché se avesse approvato anche lei il taglio dei parlamentari, le elezioni sarebbero andate a babbo morto. Due, perché avendo promesso una manovra fiscale molto impegnativa ed essendo piuttosto isolata in Europa sarebbe stato difficile farla. Tre, perché il Partito Democratico le aveva promesso che sareste andati al voto, anche perché era un anno che Renzi rimartellava al guai a voi se fate il governo con i 5 Stelle. Quali delle tre o una quarta? Una quarta. Non vorrei deluderla. No, non avevo dovuto il B. Non dicevi qual era. No, a parte il fatto che, poi per carità, i sondaggi valgono quello che contano, l'ultimo che ho visto ieri sera dà ancora la Lega al 33%, quindi se si votasse oggi un italiano su tre sceglierebbe la Lega e io penso che il governo sia nato appunto per non far votare gli italiani perché altrimenti vincerebbe la Lega, mi sembra il ragionamento più bizzarro e meno democratico al mondo. Perché era tre mesi che i 5 Stelle bloccavano tutto. Tutto. Dopo le elezioni europee, probabilmente, con la Lega che ha raddoppiato i voti grazie al consenso degli italiani, i 5 Stelle che avevano dimezzato i voti per scelta libera degli italiani, era tutto un no continuo. E il no all'autonomia, il no alla riforma giustizia, no alla flat tax, no alla TAV, no addirittura alle Olimpiadi. Io ricordo a chi ci guarda che se nel 2026 ci saranno le Olimpiadi invernali e per la testardaggine dei governatori della Lega, di Lombardia e Veneto queste Olimpiadi porteranno 5 miliardi di euro di incassi, migliaia di turisti, pubblicità, immagine dell'Italia e del mondo, fosse stato per i 5 Stelle, manco quelle avremmo fatte. Quindi all'ennesimo no, io ho detto. Io ho sempre detto agli italiani, sto al governo se posso fare le cose. Se io devo stare al governo per litigare, io faccio di giorno e di maio di sfa di notte, e dico no, amico mio. Ma allora possiamo dire che ha aspettato il decreto sicurezza bis? Ho provato fino all'ultimo. E TAV. Ho provato fino all'ultimo. Quando hanno detto no alla TAV, e sarebbe stato un danno incredibile, non solo per le infrastrutture, ma per l'immagine di Italia nel mondo, per i lavoratori. E quindi, sul mio, io penso di aver dimostrato quei fatti, sono contento di aver fatto un anno di governo. Perché ho dimostrato agli italiani che volere è potere. Fino a che abbiano lavorato bene la legittima difesa, la flat tax per gli artigiani delle partite IVA, i decreti sicurezza, il blocco degli sbarchi, quota 100. Poi negli ultimi tre mesi era un'agonia. Quindi ho detto agli italiani, votate voi, scegliete voi. Renzi, in maniera geniale, si è inventato un governo sotto il fungo per evitare queste elezioni. Vediamo quanto andranno avanti, perché mi sembra che stiano litigando più loro in un mese che noi in un anno. Però io sono contento di poter essere qua stasera, perché ho un'idea di Italia diversa rispetto a quella del governo di sinistra. Andiamo a Matteo Renzi. Nel 2018, Matteo Renzi, anche lì con un colpo di scena, una sera in televisione, annunciò che non si poteva fare il governo, lei era ancora segretario, che non si poteva fare il governo con i 5 stelle. La situazione è rimasta così. Ancora a fine luglio il Partito Democratico dice mai con i 5 stelle, si apre la crisi, patatuff, triplo salto mortale, e Renzi fa il governo con i 5 stelle. Ma patatuff è la definizione più bella che lei potesse dare, perché il colpo di sole del papete che ha preso il collega Salvini è evidente che lo fa rosicare ancora adesso. Parliamoci chiaramente, Vespa, lei da quant'è che segue la politica? Da qualche annetto ormai. Lei non è una signora, lì si può chiedere l'età. Mai era accaduto che ci fosse una crisi in questo modo, con la richiesta di votare durante l'autunno, e in una dinamica istituzionale abbastanza stravagante. Salvini dice non ci vogliono far votare. Ora, quando si vota in questo paese, lo definisce, lo decide una manuale che si chiama la Costituzione. Non è il menù di un beach club a Milano Marittima, lo decide la Costituzione. E la Costituzione prevede che si voti ogni 5 anni. Se Salvini avesse voluto aprire una crisi, lo avrebbe potuto comunque fare. Che venga a raccontare che le Olimpiadi le ha volute la Lega, ma è anche abbastanza ingeneroso, verso chi le Olimpiadi ha voluto, a cominciare da Beppe Sala, sindaco di Milano, è stato un successo del paese. Quando smetteremo di mettere le bandierine sui successi di tutti noi insieme, sarà un gran giorno per tutti. Ma al di là delle Olimpiadi, o del fatto che, come lei ricordava, noi abbiamo votato la mozione per la TAV. Perché non è che siamo gente con i paraocchi. Se c'è da fare un'infrastruttura, si dice di sì, ma la vuole anche Salvini. Non importa, anzi, si può fare insieme. Noi non siamo assetati di ideologia. Il punto è che Salvini ha fatto una cosa che non aveva né capo né coda. Perché l'8 di agosto si è messo in testa di portare il paese a votare in pieno Ferragosto. Lì avevamo due alternative. La prima era accettare il diktat del papete. Cioè il ministro dell'interno decide quando si vota, come si vota, con chi si vota. La coalizione ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga. Lui ha utilizzato un'espressione un po' meno nobile. E andare in Parlamento. Siamo andati in Parlamento e l'abbiamo messo in minoranza. Perché l'alternativa era quella, la seconda, di fare un'operazione. Sì, un'operazione di palazzo. Sì, un'operazione macchiavellica. Lo riconosco io. Io non lo volevo fare l'accordo con il governo, con i 5 Stelle. Ma siccome c'era l'interesse del paese, perché se fossimo andati a votare adesso, ci sarebbe lo spread ai massimi livelli. Ci sarebbe le persone che ci seguono da casa, gli artigiani, i piccoli commercianti, le persone che non arrivano alla fine del mese, che pagherebbero il conto di questa scelta sciagurata. Noi abbiamo pensato, e io le dico la verità, ci ho pure sofferto personalmente, perché votare con i 5 Stelle, Salvini ci è abituato, si è trovato bene. Io ci ho sofferto. All'idea di votare ci ho sofferto. Quando sono dovuto passare lì e dire sì, alla fiducia ho sofferto. Ma l'ho fatto perché per l'Italia è giusto così. Per tre motivi. Uno, perché abbassiamo lo spread. Con Salvini siamo arrivati a 318 punti di spread. Novembre 2018. Con noi eravamo al nostro governo a 98, ma adesso abbiamo recuperato e siamo circa alla metà. Siamo molto meno della metà rispetto al massimo, perché siamo intorno ai 140. Secondo punto, lo facciamo perché attraverso questa serenità che c'è possiamo non aumentare l'IVA. Se fossimo andati a votare l'IVA sarebbe passata dal 22 al 25%, e paga pantalone. Salvini spende e l'italiano paga. Terzo e ultimo motivo, Vespa. Perché io spero che l'Italia torni protagonista in Europa. Non si va avanti a colpi di gomitate in faccia a Macron e alla Merkel. Non si fa la guerra alla Francia e alla Germania per prendere un like in più. C'è un paese da governare insieme agli alleati europei e non come fa Salvini con Orban e con i sovranisti. Breve replica e controreplica. Brevemente, per favore. Ho capito che è un reato andare in spiaggia col proprio figlio. Nel senso che a Milano Marittima succedono gli atti più incredibili del mondo. Probabilmente a sinistra sono abituati Caviale, Champagne e Monte Carlo. Io sono molto più sempliciotto. Vado in vacanza in Italia per tenere i soldi degli italiani in Italia. Detto questo, Renzi ha governato sette anni su otto. Renzi è stato Presidente del Consiglio tre anni, sostanzialmente. Negli ultimi otto anni il PD è stato adesso, con il PD Italia viva perché lui crea partiti, disfa partiti, è un rottamatore mica per altro. Mette il ministro e si inventa il partito e ci porta fuori il ministro. Detto questo, io sono qua per ragionare di futuro. La Spagna vota a novembre, la Polonia ha appena votato, l'Austria ha appena votato, la Gran Bretagna voterà, il mondo civile vota. Se c'è un governo che va d'accordo su niente, lui ha detto, quando ho detto sì alla fiducia a Conte ero imbarazzato. Andiamo a votare gli italiani. L'IVA non sarebbe aumentata se partite IVA e artigiani pagheranno di più l'anno prossimo. Facciamo questa scommessa, Vespa, ci troviamo a giugno dell'anno prossimo e a testimonianza portiamo partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, a cui viene tolta la flat tax fino a 100.000 euro, 2 miliardi di danno, a cui viene reimposto il doppio conto corrente, burocrazia e vita complicata. Quindi io ho apprezzato molto di più quelli del PD e quelli dei 5 Stelle che hanno detto, compresa la Boschi, stiamo insieme, anche se non abbiamo d'accordo su niente, per non andare a votare se no vince la Lega. Per carità, operazione di palazzo, io ritengo che l'onore, la dignità, la parola valgano più di qualche ministero. Lo spread, quest'anno loro hanno messo in manovra economica 3 miliardi e 300 milioni di euro in meno di spese per interessi quando eravamo al governo noi, quindi anche quando c'era il governo Salvini, razzista, fascista, nazista, populista, sovranista, si pagava di meno di interesse e di debito pubblico. Sì, io ho l'ambizione che l'Italia sia un paese sovrano, che noi non dobbiamo prendere ordini da Parigi, da Berlino, da Bruxelles. Io non voglio un paese che, come negli anni del governo Renzi, fa sbarcare 500.000 emigrati. No. Certo, la Merkel è contenta, sì. Macron è contento, sì. Gli italiani sono contenti, no. L'unico risultato concreto di questo primo mese di governo di sinistra è che gli sbarchi sono triplicati. L'Europa è contenta, Matteo. Ebbè, gli italiani no. Se l'Europa è contenta, ma io riapro i portoni dell'immigrazione clandestina, io rispondo agli italiani, non alla Merkel o a Macron. Permettetemi. Brevemente perché rimantendo sui tempi. Beh, ha messo almeno 5 punti su cui 5 mini tweet di risposta. Il primo, io mai mi permetterei di giudicare le sue ferie. E soprattutto, a differenza di altri, mai mi permetterei di giudicare le sue ferie con figlio, figlia e famiglia. Perché qualcuno ha fatto polemica anche su quello. Lei però su questo avrebbe fatto migliore figura se il 30 luglio, il 31 luglio e il 1 agosto, quando era in ferie a Milano Marittima, non si fosse messo in missione al Senato. I ministri sono sempre in missione. No, no. Sì, per regolamento del Senato che lei conosce. Scusi Salvini, la missione significa andare a fare le riunioni al Parlamento, al Consiglio Europeo. No. Lo so che lei non le ha fatte. Perché lei su 7... No, no, ma lei sbaglia. Salvini, lei sbaglia. Non conosce i regolamenti. Sì, guardi, lei conosce tutti i regolamenti. Sì. E io non conosco niente. Sì. Però io conosco una cosa che evidentemente lei non conosce, che è la buona educazione. Perché lei ha parlato per qualche minuto e non l'ho interruta. Se lei è così cortese da farmi parlare, io le dirò dei dati. L'ascolto tutta la sera. Sbagliandole chiedo scusa. Se non sto sbagliando, abbia la compiacenza di ascoltare. Prego. Non dico di scusarsi lei. Primo punto. Le riunioni che si fanno a livello istituzionale sono importanti. Lei non ci va mai. Lei ha fatto 7 vertici europei. 7 vertici europei come Ministro dell'Interno. 7 consigli europei. E ha partecipato una volta su 7. Lei ha votato da quando siamo in Senato, su 5.190 votazioni che ci sono state, lei ha votato 70 volte, l'1,3%. Lei, caro Salvini, quando non era Ministro e andava al Consiglio Comunale di Milano, quindi perché non mi si dica che era un problema di fare il Ministro, aveva una percentuale di presenze che era dell'1,3%. Allora, stare in spiaggia col figlio è assolutamente legittimo per tutti. Ma se fai il Ministro, stai nelle istituzioni. Non fai le pallacciate in piazza. Se no, vai a fare il Presidente della Proloco. Lei sa tutto delle sagre di questo Paese. Lei la vedo, la seguo anche con una certa ammirazione per il suo stomaco, perché è notevolissimo, quasi di amianto. Ma lei riesce a mangiare di tutto in questo Paese, sa tutto di tutti, ma lei dovrebbe governare il Paese, andare al G20, al G7, non alla Proloco. E quindi quando lei mi dice che stava a Milano Marittima, in vacanza con suo figlio, io le contesto che lei era in missione. come le contesto che non ha mai messo piede nei vertici europei, dove doveva andare, se non una volta su sette. Secondo punto, la flat tax. Il Ministro Salvini sicuramente conosce la legge 190 del 2014. Se non la ricordasse, posso dirgli che la legge 190 del 2014 è la legge di bilancio che ha introdotto la flat tax in questo Paese per le partite IVA. L'ha fatta il mio governo. È entrata in vigore il primo gennaio del 2015 ed ha raggiunto 937.000 persone. Dopodiché Salvini quest'anno l'ha allargata, o meglio, più correttamente, ne ha allargato i limiti, cioè ne ha esteso i limiti, e ci sono 300.000 persone in più che prendono la flat tax. Ma Salvini aveva raccontato nella campagna elettorale del 2018 che avrebbe dato la flat tax a 30 milioni di italiani. L'ha fatto per 300.000 persone. È la politica dello spot. Prendi una barca, la blocchi e hai risolto l'immigrazione. Prendi 300.000 persone e hai fatto la flat tax. Potrei continuare con dozzine di altri esempi, a cominciare da quota 100, ma sicuramente ci arriveremo. E allora finisco. Noi abbiamo fatto un'operazione perché il Paese stava andando a carte 48. Quando Salvini dice lo spread non è alto, ma il costo degli interessi diminuisce, dice una cosa corretta, ma mica per merito suo. Perché dopo 10 anni scadono, 8 anni, 5 anni, a seconda di quali sono, i titoli di Stato che sono stati emessi nel momento peggiore per l'Italia, quello del 2011-2012. Peraltro è stata la Lega a governare con Berlusconi fino al 2011. Poi c'è stato il governo. Bene, scadendo quei titoli di Stato, cosa succede? Che diminuisce il costo per interessi. Ma io rivendico il fatto che proprio perché diminuisce il costo degli interessi e se aveste fatto meno confusione sarebbe diminuito di più, noi abbiamo il dovere di mettere in sicurezza il debito pubblico. Lei non può continuare a promettere tutto a tutti e non portare a casa un solo risultato. È 27 anni che fa politica lei, Salvini. Non ha portato a casa un risultato, solo tanti spot. Allora, è in svantaggio di due minuti e mezzo, Salvini. Ma il problema non è la durata del discorso, è il contenuto. Perché se il tipo della Proloco, come se quelli delle Proloco fossero dei Minus Abens, io adoro l'Italia dei comuni, dei paesi, delle sagre, delle tradizioni, dei campanili, sì, penso un po'. I casi sono due. O gli italiani sono cretini, non ho fatto niente, non vado alle riunioni, mangio come un bufalo e gli italiani mi danno il 33%. O sono tutti rimbambiti, o evidentemente se lui ha il 4% ad oggi, io ho il 33%, evidentemente qualcosa di buono si è fatto. Non abbiamo bloccato un balcone. A me piace parlare di numeri, di dati, di cose concrete. Epoca Renzi 500.000 sbarchi, Epoca Salvini 28.000 sbarchi. Da quando è rientrato il governo di sinistra, triplicati, da 23 sbarchi al giorno a 73 sbarchi al giorno. Fatti. Noi in manovra economica l'anno scorso, e voglio vedere quest'anno quanti soldi ci sono, abbiamo messo 2 miliardi di euro per le forze dell'ordine, per assumere 12.000 donne e uomini in divisa. Io ho la cravatta del fiamme oro della polizia perché domani vado a Trieste a stringermi ai colleghi di Pierluigi e di Matteo. Perché non basta la pacca sulla spalla delle forze dell'ordine. O metti i soldi per assumere, vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti, finanziere in penitenziaria, gli stessi ruoli bloccati dai governi del PD. La madia, io sono stato in carcere a Spoleto. Mi piace la vita reale, non le chiacchiere. Da 388 siamo scesi a 281 uomini della polizia penitenziaria in carcere a Spoleto, a tenere a bada 500 delinquenti. Perché per risparmiare, per ubbidire all'Europa, i governi precedenti avevano bloccato tutto. Quindi, poi, ha fatto qualcosa di buono anche loro prima. Sì, certo, non è che io sia un pozzo di scienza. Ma se in un anno i voti della Lega sono raddoppiati, è perché sulla legge Fornero abbiamo mantenuto la parola, in un anno era l'inizio di un percorso, sulla flat tax abbiamo coinvolto centinaia di migliaia di persone in più e adesso loro tolgono questo diritto, sulla legittima difesa siamo andati avanti. Se ne parla poco. Col Ministero della Disabilità, istituti o per la prima volta, abbiamo incontrato centinaia di associazioni. Questo governo è nato cancellando il Ministero della Disabilità e io non ho ancora capito perché, che fastidio dava. È sparito il contributo agli assegni di invalidità. Guardiamo al futuro. Non mi interessa litigare con Matteo Renzi, siamo persone diverse, abbiamo storie diverse, abbiamo evidentemente un approccio alla politica diverso. Io non mi sognerai mai di creare partiti dalla sera alla mattina, Bruno stai sereno e poi track. Io sono molto, sono diverso. Se dico Bruno stai sereno, lei può star sereno. Però, guardiamo al futuro. Possiamo fare qualcosa insieme di utile, sì. Se arrivano delle proposte utili di questo governo in Parlamento, sì. Però se io devo stare a questo mese, la tassa sulle merendine, la tassa sulle bibite gassate, la tassa sulle badanti, la tassa sulla casa, la tassa sui telefonini, la tassa sul diesel, no, è solo quello di cui hanno parlato. Poi vediamo che cosa verrà partorito e si torna all'Europa. Perché così sono contenti a Bruxelles, a Berlino e a Parigi. Ma io voglio andare d'accordo con Bruxelles, Berlino e Parigi. Ma ad esempio, l'Europa che non muove un dito mentre la Turchia massacra i curdi, non è la mia Europa. L'Europa della direttiva sulle banche che ha rovinato milioni di risparmiatori italiani azzerati, truffati, massacrati, a cui noi abbiamo restituito un miliardo e mezzo di euro. Non è la mia Europa. Posso voler cambiare questa Europa? L'Europa che lascia l'Italia da sola 500 sbarchi nelle ultime ore. È questo che volete? Cioè volete tornare a riaprire le porte dell'Italia? Non così chiudiamo la cosa sull'immigrazione. No, no, sull'immigrazione intanto. Scusi, siccome per una volta che abbiamo Salvini che parla di numeri è fantastico. Si è dovuto portare l'aiuto da casa, ma almeno possiamo parlare di numeri. Salvini dice abbiamo messo due miliardi di euro. Benissimo. Io glielo riconosco, Salvini. È vero. Il governo Conte e Salvini ha messo due miliardi sulla pubblica sicurezza, diciamo così. Il governo Renzi e il governo Gentiloni hanno messo sei miliardi. Lei non lo riconosce. Dalla colpa alla madia delle cose, dei tagli che vengono dal governo Monti e da prima ancora dal governo Berlusconi con voi dentro. Vede Salvini, l'onestà intellettuale sta nel fatto che io le riconosco che lei ha messo due miliardi, ma lei non riconosce a noi che abbiamo messo tre volte quello che ha messo lei. Primo punto. Secondo punto che mi sembra fondamentale ma quale tassa sulle merendine mi indica l'articolo, il codice, il comma io le ho detto legge 190 articolo 1,54 perché le cose le studiamo. Lei mi indica qual è l'articolo in cui c'è la tassa di cui parla sulle badanti perché altrimenti lei fa la solita operazione di gettare il paese in un clima di paura. Vogliono tassare, vogliono tassare, chissà cosa faranno. Guardi che con lei la pressione fiscale secondo l'Istat è aumentata dello 0,2% e le uniche operazioni che hanno portato soldi in tasca ai cittadini sono quelle a cui lei ha votato contro perché sugli 80 euro lei ha votato contro, non lei perché non c'era, il suo partito. sull'iperammortamento e superammortamento ha votato contro, su Industria 4.0 ha votato contro, sull'IRES ha votato contro, sul Jobs Act e la decontribuzione ha votato contro. Lei ha votato a favore del reddito di cittadinanza, della prescrizione lunga e del condono a Ischia. Allora, parliamo di numeri e di fatti. Salvini racconta delle cose che sono semplicemente false. Dopodiché entriamo nel merito. Quando dice la verità io gli do ragione e dico che quando lui va a Trieste la prego Senatore Salvini porti anche il mio abbraccio, l'abbraccio di Vespa, l'abbraccio di tutti noi perché non c'è colore di fronte al dolore di due poliziotti. Io non credo che si possa fare polemica o strumentalizzazione quando ci sono due agenti delle forze dell'ordine uccisi. È anche il mio dolore perché sono italiano come lei. Quello che mi divide profondamente da lei è il tema dell'immigrazione, certo, ma di che cosa stiamo parlando? Del fatto che nel mese di settembre sono 2400 o 2450 adesso non ricordo le persone che sono arrivate. Se questo fosse il trend che rimane il mese peggiore dell'anno se questo fosse il trend che rimane abbiamo 30.000 persone e noi vogliamo far credere che ci sono 30.000 persone in un paese di 60 milioni di abitanti che costituiscono un problema lo so eh tutti i guru della comunicazione dicono qui devi dire che sei preoccupato per l'immigrazione perché ormai abbiamo creato un clima nel quale dobbiamo avere terrore, timore. Il punto non sono i 2400 che arrivano a settembre il punto sono quei 20, 25, 30 che delinquono e quelli che delinquono che siano senegalesi, nigeriani, di Pontassieve, francesi, inglesi devono essere stangati deve esserci un'emergenza legalità un'emergenza sicurezza non un'emergenza immigrazione ma quindi lei dà per scontato scusi che l'accordo di Malta non funzioni che la redistribuzione non ci sarà guardi Vespa io le dico questo secondo me la provoco provoco più lei ma provoco anche Salvini ma in senso positivo io penso che quando Salvini dice che c'è un'invasione mente ma l'invasione potrebbe esserci nei prossimi 20 anni perché se facciamo politica seria dobbiamo dire che noi abbiamo un tasso demografico sostanzialmente piatto cioè noi non facciamo più figli questo è il nostro dramma siamo passati da un milione di bebè a meno di mezzo milione immigrati inclusi e questa è una cosa drammatica per un paese perché saltiamo in aria l'Africa passa da un miliardo e due a due miliardi e mezzo allora o gli aiuti nel giro di 25 30 anni o gli aiutiamo a casa loro davvero e aiutarli a casa loro significa che la Lega ha tagliato i fondi per la cooperazione internazionale quando ha governato noi l'abbiamo aumentato voi avete tagliato i fondi per la cooperazione internazionale noi no ecco il punto fondamentale facciamo un'operazione seria in Africa diamo sicurezza alle forze dell'ordine diamo legalità ma quando c'è un immigrato in barca non lo lascio sulla nave in mezzo alle laniere io non lo lascio un immigrato lì per dire la pacchia è finita perché una ragazza violentata in un campo lager libico e senza assorbenti su una barca dove le laniere fanno caldo e dove ci sono 70 persone per un bagno non è un principio di sovranità è disumanità lasciarla a bordo le faccia sbarcare e intervenga in Africa per evitare che partano anziché fare lo splendido per prendere due post su Facebook prego è un genio incompreso ha fatto tutto e gli italiani non lo capiscono penso che scemi sti italiani ha tagliato le tasse ha assunto poliziotti ha fatto accordi internazionali ha sconfitto la fame nel mondo ha portato la pace nel mondo la crescita dei capelli e gli italiani non se ne sono accorti qualcosa di buono sarà stato fatto sicuramente però sull'immigrazione io continuo a essere convinto io personalmente ho firmato i corridoi umanitari perché quando ero ministro continuano ad arrivare in aereo donne, bambini e disabili in fuga dalla guerra continuano ad arrivare a centinaia così come io ho firmato i 30.000 posti di ingresso per i lavoratori immigrati regolari su quei barconi da quei barconi sono scesi stupratori spacciatori rapinatori terroristi quindi posso difendere il mio paese da ministro dell'interno pretendendo che entri in Italia chi ha il diritto di entrare in Italia e non entri in Italia chi non ha il diritto di entrare in Italia poi sono andato in Ghana sono andato in Egitto sono andato in Libia sono andato in Tunisia sono andato ai vertici internazionali a Helsinki a Lione a Vienna a Parigi sono andato in Polonia in Romania non voglio annoiare nessuno con l'agenda però aver ridotto dell'80% il numero di sbarchi e dimezzato il numero dei morti secondo me significa aver avuto un atteggiamento di buonsenso di concretezza di rispetto di dignità umana io non vorrei che Conte avesse avuto l'ok a far nascere il nuovo governo in cambio della riapertura totale dei porti infatti anche in queste ore ci sono 180 immigrati in arrivo altri 180 su una ONG una nave norvegese di una ONG francese sbarcano a Taranto ma io mi domando perché una ONG francese su una nave norvegese deve arrivare in Italia vai in Francia vai in Norvegia vai dove vuoi è questo quello che ho fatto per un anno al governo e ripeto siccome poi gli italiani in democrazia votano se gli italiani hanno votato Lega o ripeto o sono tutti rimbambiti oppure evidentemente qualcosa di buono l'abbiamo fatto quando ci si è resi conto che i 5 Stelle bloccavano tutto non so se per rancore per invidia per gelosia la flat tax me l'han detto chiaramente tu non la farai mai e siccome io ci avevo messo la faccia come diceva lui io non vado avanti a fare sta al governo se ho promesso la flat tax e questi mangi ha detto che tu non la farai mai la flat tax aspetto di tornare al governo perché prima o poi gli italiani potranno tornare a votare e quello è il mio programma io sono un uomo di parola sull'immigrazione l'abbiamo mantenuta sulla legittima difesa sull'assunzione dei poliziotti sulle telecamere negli asili nido su tante iniziative sulla legge Fornero quando ho capito che la flat tax mai me l'avrebbero fatta fare allora fatele a voi la mano economica noi torniamo a farla col voto degli italiani